Un festival dedicato al Mediterraneo, alla sua storia contemporanea tra migrazioni e diritti umani. È tutto pronto per la prima edizione di Mediterraneo Downtown che si terrà a Prato dal 5 al 7 maggio al Museo del Tessuto. Il festival è stato presentato in regione dall'assessore Vittorio Bugli, dal sindaco di Prato Matteo Biffoni e da Fabio Laurenzi, direttore del festival. Nella due giorni ci saranno 70 ospiti da tutto il mondo, 100 volontari, 35 ore tra talk show, libri e spettacoli. Un modo per approfondire la storia di chi condivide con noi uno spazio comune, il Mediterraneo. D'altronde siamo di fronte a temi, pensiamo solo a quello dell'immigrazione che hanno un impatto enorme, riguardano 60 milioni di persone nel mondo che si muovono e riguardano quindi anche il tema dell'accoglienza che diventa un tema che cambia la nostra società. Non si può non avere dei momenti in cui lo si approfondisce. Continuiamo a fare lo sforzo, come ha detto Papa Francesco, di affrontare, di confrontarci con questo tema che c'è, ci piaccia, non ci piaccia, ognuno avrà le proprie sensibilità, assolutamente rispettiamo tutto e tutti, ma c'è. E allora bisogna dotarsi il più possibile di strumenti per conoscerlo e gestirlo nella maniera migliore possibile. La formula scelta è quella del festival, perché non si tratta di un'iniziativa solo per esperti, ma rivolta a tutti. Perché pensiamo che ciò che succede nel Mediterraneo ci riguarda tutti. Noi crediamo in un Mediterraneo come spazio comune, crediamo in un Mediterraneo dove si uniscono popolazioni che sono unite da un destino comune, inevitabilmente. Il festival si aprirà ufficialmente al Museo Pecci di Prato. Nell'occasione sarà consegnato il premio Un Mediterraneo di Pace a Jean Dundas, giornalista turco, costretto all'esilio dal governo Erdogan, e a Lucia Goracci, inviata a Rai.